Salve ragazzi, buonasera, è arrivata la sentenza pochi minuti fa, il verdetto di primo grado per quanto riguarda il Palermo Calcio e il TFN ha dato questa stangata alla società Rosa Nero e il verdetto di primo grado recita Palermo all'ultimo posto della classifica della Serie B. Stesso il Tribunale federale nazionale presieduto dal Dottor Cesare Mastrocola ha accolto quindi a questo punto le richieste della Procura FIGC. Fondamentalmente il club è stato punito a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per il lecito amministrativo. Ora cosa dovrà fare necessariamente il club Rosa Nero? Il Palermo avrà a disposizione 48 ore per presentare il ricorso in appello. Il Tribunale ha allo stesso tempo dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell'ex presidente Maurizio Zamparini mentre invece all'ex presidente del club ovvero Gianni Giammarva è stata commissionata la pena di due anni di inibizione. C'è anche una terza persona ovvero Anastasio Morosi che non è altro che l'ex presidente del collegio sindacale che è stato invece punito con 5 anni di inibizione e preclusione ovvero la radiazione da tutti gli ambiti sportivi. Il comunicato ovviamente qui sono ore concitate però smorzatamente uno scarno comunicato potrà appunto prevedere ulteriori scenari a meno appunto come dicevo prima di 48 ore di decisione del ricorso in appello della società Rosa Nero. Da Roma qui è tutto, io vi ringrazio e a risentirci presto. Ciao ragazzi!